Salve a tutti da casa del Papi. Dopo una certa temperatura, cioè superati 25-26 gradi, e oggi dovremmo essere abbondantemente più su di questa temperatura, dovrebbe essere illegale giocare con i pelosetti dentro casa. Però Totino non vuole capire questa situazione assolutamente e da quando mi so svegliato dopo aver fatto la notte si è messo con il pupazzetto e niente, non riusciamo a risolvere questa cosa perché lui mi chiama, vuole giocare. Vi voglio far vedere una cosa, scusate, abbiate pazienza, guardate qui Totino, a un momento così, guardate Totino, bravo Totino, sei un mostro Totino, vai e ricominciamo. Tutto questo è quello che stiamo facendo in questa domenica così calda a casa del Papi. Grazie a tutti.